Mi sentivo differente già da piccolo, ma non ho mai trovato le parole per descrivere che cosa volesse significare questo stato di essere. Mi sono sempre identificato con i ragazzi, ma era diverso. Anche se ho sempre avuto più affinità con i ragazzi che con le ragazze, non riuscivo a descrivere questa sensazione. Sam Blacknessy è nata femmina, ora ha 21 anni, studia ed è maschio. Sam ha iniziato la cosiddetta transizione all'età di 18 anni, un processo mediatico complicato, uso di ormoni, testosterone e la chirurgia. Più difficile la transizione sociale perché doveva far capire la decisione di cambiare sesso agli amici e alla sua famiglia. Se ripenso al passato mi accorgo di molte cose che non riuscivo a capire. A quel tempo non conoscevo i transgender e non avrei mai pensato che Sam fosse diverso. Si poteva definire un vero maschiaccio, giocava con le figurine e a Halloween si mascherava da personaggi maschili come Harry Potter. Sarebbe sempre stato Harry Potter e non Hermione. Aveva scelto la sua identità, quella maschile, ma nella mia testa questo meccanismo era ancora oscuro. La parola transgender non era nel mio vocabolario. Esprimere la propria identità di genere non è stato facile, soprattutto dal punto di vista giuridico. È stata una lunga battaglia per la comunità transgender nel mondo, specie in Irlanda. Claire Farrell ha 71 anni e è cresciuto in un periodo in cui il divorzio era illegale, l'omosessualità era un atto criminale. Per lei il diritto di esprimere la propria identità era quasi impossibile. Negli anni 50 ho fatto fatica a capire chi fossi. Mi sentivo una ragazza, ma non ne parlavo con nessuno. Ne con la mia famiglia, ne con i miei amici, perché avevo la sensazione che l'ambiente dove vivevo non avrebbe capito. Negli anni 60 fu anche peggio. Quando i miei genitori hanno scoperto che mi piaceva indossare abiti femminili, non fu facile accettarlo, anzi fu complicato. E poi al lavoro mi dovevo sempre vestire da uomo, non potevo fare altro. Ecco, questo è quanto ho vissuto fino a due anni fa, quando sono andata in pensione. L'Irlanda è l'unico paese dell'Unione Europea che non ha ancora previsto il riconoscimento legale di genere, ma presto le cose cambieranno. Nelle prossime settimane il Parlamento dovrebbe approvare un disegno di legge in materia. La norma sarà basata, per le persone transgender maggiorenni sull'autodichiarazione, quindi attraverso un'autocertificazione. Per le persone trans questo disegno di legge è in qualche modo una vittoria. Sara si è dichiarata transgender quasi 30 anni fa e ci fa notare come questa nuova legislazione sia un passo avanti nel riconoscimento dei diritti fondamentali. Si tratta di un atto per responsabilizzare le persone. Il mio Stato mi considera un cittadino come gli altri. Secondo la nuova normativa il modello di autodeterminazione sarà un atto notorio. Si potrà decidere il genere sessuale e procedere con la registrazione di genere. I documenti saranno poi trasmessi al registro delle nascite e qui si può chiedere un nuovo certificato. Questo nuovo documento rappresenterà solo il sesso attuale. Il certificato di nascita vecchio rimarrà ma sarà bloccato e nessuno potrà accedervi. Il nuovo certificato di nascita renderà più facile cambiare anche gli altri documenti come passaporto, patente o la carta sanitaria. Una liberazione insomma per la comunità trans irlandese relegata in qualche modo per anni in una sorta di lobby. Per convalidare poi il cambiamento di sesso non servirà neppure il certificato medico. Nella maggior parte dei paesi non serve andare da uno psichiatra o uno psicologo per farsi firmare la propria nuova identità. E ora anche in Irlanda le cose cambieranno. È un momento incredibilmente importante in termini di diritti per i trans perché significa che ora possiamo uscire allo scoperto. Ora io sarò in grado di affermare davanti a tutti che sono un uomo e non avrò più bisogno di uno psichiatra per farlo. Donald Oshia è un endocrinologo che da quasi vent'anni ha in curi pazienti transgender. Gli ha aiutati sia in termini psicologici che medici, avvertendoli anche di alcuni pericoli fisici. Non ho mai avuto bisogno di avere lettere che certificassero che un individuo è davvero transgender. La mia preoccupazione non è per chi ha deciso di cambiare sesso. Sono più preoccupato per quella minoranza di persone che hanno invece un disturbo di personalità. Non dovrebbero essere incoraggiati al cambiamento di sesso perché sarebbe solo nocivo per loro. nonostante qualche riserva, il professor Oshia è favorevole al riconoscimento legale dell'identità di genere. La comunità trans irlandese sostiene che non ci dovrebbe essere un'età minima però per dichiarare la propria identità, ma la questione resta molto delicata. Il vero transgender è sicuro di vivere in un corpo sbagliato fin da piccolo, intorno anche ai 5 anni. Il vero problema resta comunque fare una diagnosi prima della pubertà. Circa il 5% cambia idea in seguito. Dopo la pubertà la percentuale scende all'1% e quindi ritengo sia importante proteggere i bambini più piccoli. Per Sam e gli altri non c'è alcun dubbio il riconoscimento dell'identità di genere è una rivoluzione epocale, anche se il passato non si scorda mai. Penso che il sesso del bambino non dipenda da come vengono vestiti dai grandi. È difficile capire se un bambino è un maschio o una femmina. È difficile da capire, almeno fino a quando non si iniziano davvero a vestire in un determinato modo. Mi piace però ricordare il passato, ma allo stesso tempo è anche complicato mostrare le foto da bimbo agli altri, perché loro vedono solo ciò che sono ora.